Io farò un escursus su quello che è stato il 2019, come il mio solito, cominciando da un bilancio dell'economia provinciale del 2019, che vede come da un po' di anni a questa parte un leggero arretramento del numero di imprese artigiane, ma in maniera meno marcata che il passato. Diciamo questo, la nostra provincia comincia a fare meglio di quello che è l'intera regione Marche, quindi da provincia che negli anni scorsi ha subito maggiormente i morsi della crisi, da questa parte, ci sono dei segnali molto interessanti di ripresa che poi vi dirò e che ci vedono invece ritornare nei primi posti della competitività e dell'economia regionale. È tempo di bilanci per la CNA di Pesero Urbino che venerdì 27 dicembre ha rinnovato l'ormai tradizionale appuntamento con gli operatori dell'informazione per presentare i dati sull'economia locale e le prospettive economiche 2020. Alla conferenza stampa che si è svolta nell'officina dell'azienda pesarese BMG hanno partecipato il presidente provinciale della CNA Alberto Barilari e il segretario Morino Bordoni. Durante l'incontro i vertici dell'associazione hanno illustrato i dati elaborati dal centro studi CNA, dai quali è emersa un'economia cambiata che continua ad adeguarsi alle mutate esigenze del mercato. Nei primi 11 mesi del 2019 le imprese della provincia sono calate di 252 unità pari allo 0,7% e ad oggi sono complessivamente 34.592. Abbiamo un ritornamento del 0,7% del numero di imprese, la regione fa peggio a meno 0,9% nella media. Calano specialmente alle imprese del commercio ma questo è legato come ben sapete a una profonda modificazione del panorama del commercio. È fresco il dato che per Natale i due terzi degli acquisti per i regali sono difatti online. Nelle Marche il dato generale è leggermente più intenso e si attesta a meno 0,9%. I settori più in affanno sono l'agricoltura con 131 imprese in meno e il commercio con un calo di 200. Quest'ultimo in particolare ha subito un grande cambiamento dovuto all'avvento del commercio online. In Italia i due terzi degli acquisti per i regali di Natale sono stati fatti su internet. A crescere d'altra parte sono le attività di servizio alle imprese, quelle finanziarie e assicurative, ma anche il settore del noleggio e le agenzie di viaggio. Questo dato non deve creare panico, è una modificazione in atto generalizzata, quindi è una situazione che va capita e va affrontata, va gestita più che altro, più che affrontata. È ineludibile, questo è un passaggio ineludibile. Quanto sia meglio sia peggio non sta mai a dirlo, però è un dato di fatto. Con i dati di fatto bisogna farsi i conti. Soffre quindi il commercio e l'agricoltura tradizionale. Per il resto le attività più o meno tengono, tutte quante. Moreno, quali sono i dati che riguardano le marche, in particolare la provincia di Pesero Urbino? Sono dati che fanno intravedere un riposizionamento della provincia di Pesero Urbino nell'economia del nostro territorio, del nostro paese in generale. Abbiamo visto che le imprese dopo tanti anni di crisi hanno cercato di ridisegnare quella che è la propria attività per cercare delle soddisfazioni nei mercati nazionali ed internazionali. Ovviamente i dati a livello numerico ci dicono che ancora una volta il saldo tra le aziende che chiudono purtroppo e quelle che aprono è un saldo negativo, però ci sono anche delle speranze importanti che riguardano l'export e riguardano la qualità delle aziende che invece aprono. Aziende di servizio a quelle manifatturiere, ma un servizio evoluto, un servizio qualitativamente molto alto, ad alta densità tecnologica, che fa crescere tutto il nostro sistema imprenditoriale. Questo perché? Perché negli anni c'è stata una grandissima selezione purtroppo, soprattutto delle aziende contoterziste e parlo delle attività prettamente manifatturiere. Noi siamo stati per anni riconosciuti come il distretto del mobile, ora i dati economici ci dicono che il primo settore in assoluto della provincia di Pesorubino è la meccanica ormai da diversi anni. Questo ha significato un aumento delle performance di queste aziende all'estero, infatti nella nostra provincia i dati dell'export sono molto lusinghieri e sono anche superiori a quelli dell'intera regione. Questo vuol dire che si è lavorato bene nel tempo e che dobbiamo continuare su questa strada. Basta così? Io dico di no, abbiamo delle importanti strumenti come la Camera di Commercio delle Marche con le aziende speciali che possono essere davvero degli strumenti molto efficaci per essere al fianco degli imprenditori con progetti immediatamente tangibili, veri, seri, concreti e allo stesso tempo dobbiamo aiutare le aziende che lavorano nei mercati internazionali, magari non in maniera costante ma a spot, a capire come poter trovare la propria strada in quei mercati così difficili da affrontare. Lo dico perché il mercato interno è purtroppo ancora molto sfidico, è stagnante e le nostre in questo momento speranze sono rivolte più all'internazionalizzazione delle nostre imprese. Ovviamente l'internazionalizzazione non è per tutti ma se le aziende che fanno da capofila sono aziende illuminate capaci anche di, come stanno facendo nel nostro territorio, di far lavorare tutto l'indotto, di far crescere l'indotto sempre più in maniera tecnologica e professionale in modo che tutta la ricchezza rimane nel nostro territorio e riusciamo anche a fare dei prodotti che sono davvero concorrenziali. I nostri imprenditori che vanno all'estero sono riconosciuti come imprenditori molto seri con un prodotto a grande valore aggiunto e devo dire la verità che questa è un'ulteriore soddisfazione in un paese in cui tra tassazione e burocrazia non è certo facile fare gli imprenditori. Lo dico ancora di più perché questi sono ostacoli che non hanno comunque fermato la grande voglia di imprenditorialità della nostra impresa. Ogni nove cittadini ce n'è uno che intraprende. Noi come associazione in primis ma anche come rappresentanti delle istituzioni dobbiamo in qualche maniera fare in modo che questi imprenditori si sentano accompagnati nel loro processo anche di vita imprenditoriale e che possano davvero in maniera concreta sentire l'appoggio di tutto un distretto perché le speranze della nostra economia futura proprio è emessa nelle loro mani. Il mercato del lavoro invece mostra segni di debolezza in tutte le province marchigiane. In quella di Pesaro Urbino l'offerta di lavoro registra un meno 10,4%. Ormai come dimostrano le analisi il quadro relativo al territorio provinciale è completamente diverso da quello di dieci anni fa. Complice la crisi dei mercati interni e internazionali, la mancanza di investimenti, la burocrazia ma anche il peso della tassazione e le guerre sui dazi. Nonostante questo la CNA continua ad essere ottimista e a supportare le proprie imprese infondendo fiducia ma soprattutto invocando da tempo una forte riduzione della burocrazia e agevolazioni per quelle aziende che intendono digitalizzarsi e affacciarsi alle nuove tecnologie. Oggi decido che il mercato interno come diceva il presidente non dà soddisfazione purtroppo è in stagnazione ormai da tanti anni non mi dà quel fatturato di cui ho bisogno vado all'estero. Non è così, è una cultura importante che inizia nella trasformazione all'interno dell'impresa. Avere la capacità di essere in grado non solo di trasformare la propria impresa dall'interno ma anche di trasformare quella che è l'immagine dell'impresa che viene vista all'esterno. Chiunque di voi ha rapporti con l'estero sa che la prima cosa che guardano è il sito internet, in che lingua è il sito internet, vi mandano una mail, una lingua straniera, bisogna essere capaci di rispondere, rispondere adeguatamente, cioè far capire davvero al mondo che se scelgono un'impresa di Pesaro e Urbino della nostra provincia è un'impresa che ha tutte le caratteristiche importanti ed essenziali per soddisfare le loro esigenze, ad iniziare dalla professionalità e dalla qualità del prodotto. Presidente, oggi conferenza stampa di fine anno della CNA di Pesaro e Urbino, illustrerete i vari dati, quello che emerge è che c'è un'economia che cambia, che si evolve e si adegua anche all'esigenza del mercato. Direi che è l'onda lunga della modificazione che è venuta dopo la crisi del 2008, noi dieci anni ancora non si è guarita, come dirò nella mia relazione, l'economia, ma sta subendo una forte trasformazione che è in atto, anche positiva io dico. I numeri delle imprese nel 2019, nei primi 11 mesi, sono in calo ancora, ma con un peggioramento migliorativo rispetto all'anno precedente, quindi il drenaggio di imprese sta calando, ma calano specialmente alcune categorie di imprese come il commercio e come l'agricoltura. Per il resto la nostra provincia è una provincia che generalmente tiene, ecco, anzi si vedono dei importantissimi segnali di sviluppo dovuti specialmente all'export. Del resto è una strategia di economia che le nostre anche piccole imprese hanno dovuto mettere in atto, nonostante le difficoltà, per sopravvivere, ma in questi anni hanno saputo adattarsi a queste nuove esigenze, il mercato che cambia, un mercato globalizzato, quindi fa molto piacere vedere come questi numeri siano in crescita e come risorse che vengono da altri paesi possano venire a influenzare positivamente la nostra economia. Non dimentichiamo che i proventi dell'export poi ricadono a fioggia su tutto il comparto economico del nostro territorio, quindi benvenga, benvenga, un export forte e potente, specialmente nella manifattura. La manifattura ha avuto numeri importanti, in provincia noi esprimiamo meccaniche, legno mobile e arredamento come settore di punta, ma sta tornando prepotentemente anche la nautica, quindi lavorazioni di alta qualità, di lusso, export di lusso, quindi di quell'export importante che ha probabilità di tenerne il tempo, quindi questo è molto molto importante. Ha parlato anche di meccanica, oggi avete voluto tenere questa conferenza stampa proprio alla BMG, come due o tre anni fa se non ricordo male. Sì, noi siamo stati qua poco tempo fa sostanzialmente, ringrazio i proprietari della BMG perché naturalmente ha messo a disposizione molto gentilmente le loro strutture, noi siamo soliti fare queste conferenze stampe presso i nostri associati, anche perché vogliamo condividere con loro il lavoro vero, quando si entra qua dentro si sente proprio un ambiente in cui si lavora, quindi questo è molto importante. Diciamo che l'associazione mediamente è soddisfatta di come stanno andando le cose, naturalmente questo mercato in continua evoluzione, questi cambiamenti, grandi cambiamenti dell'economia impongono una rincorsa continua e forsennata che anche noi a livello associativo chiaramente come tutti facciamo fatica a tenere perché logicamente servono investimenti, tempi, risorse per stare dietro a questo mondo che ti cambia continuamente sotto le mani. Il commercio online, dicevo prima, è stata una modificazione che è venuta avanti in pochissimi anni ma che sta stravolgendo il mondo del commercio locale, la grande distribuzione, ci sono tanti argomenti da poter affrontare, in ogni caso i segnali che vediamo noi sono incoraggianti, quindi non volendo fare previsioni perché appena si fanno si sbagliano, possiamo guardare il futuro con un occhio un po' più ottimista del passato, stiamo risalendo la china, questo è un segnale molto importante che io voglio dare a tutti, è un segnale di fiducia e quindi per il prossimo anno grande impegno naturalmente come sempre, le nostre imprese sono abituate a lavorare quindi andiamo avanti, grazie. A rendere meno amaro il quadro generale sono quindi le esportazioni, la provincia di Pesorurbino registra infatti nei primi nove mesi 2019 una crescita notevole dell'export con un più 11,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, ben più marcata di quella regionale e dovuta soprattutto ma non solo alla performance della nautica di lusso che mette a segno quasi 194 milioni. Io faccio un esempio semplicissimo, allora se uno ha un utile di 100 mila euro in un anno allora 66 mila se li portano via subito come tassazione, poi subito dopo, subito dopo altri 64 ce li portano via per l'anno dopo come anticipo, quindi di 100 mila dobbiamo andare a prendere 30 mila euro alla banca per poter pagare l'utile di 100 mila euro, questo è un pochettino, un piccolo specchietto di come siamo messi noi. Al termine dell'incontro uno dei soci fondatori ha voluto ringraziare la CNA per il supporto dato in questi anni alla BMG, esempio perfetto di impresa artigiana situata in via Iesi e caratterizzata dalla sua originale insegna con un vero caccia supersonico. Come prima cosa secondo me dobbiamo lavorare e se Antonio mi darà la possibilità di aiutarlo di andare a parlare nelle scuole ma non nelle superiori, andare a parlare in terza media insieme ai genitori e ai ragazzi che devono prendere un orientamento perché molti sono pronti e sanno quello che vogliono fare, però secondo me un 50% dei ragazzi e delle famiglie non sanno che lavoro far fare al figlio o che studio fare fare. Diciamo che dando un orientamento dicendo la bellezza che è anche lavorare nelle nostre officine perché si creano dei prodotti tridimensionali che la sera uno può toccare con mano e la soddisfazione e la bellezza di questo, secondo me possiamo intercettare una buona percentuale di ragazzi che non sanno dove andare ma vanno perché c'è l'amico che va, vanno perché è vicino a casa, vanno perché non lo sanno neanche loro perché vanno. Secondo me parlare in terza media è una cosa fondamentale. Giacomo Dini fondò l'azienda nel 1988 insieme a Bruno Fraternali e Domenico Bertuccioli. I tre soci credono fortemente nella qualità del prodotto ed è per questo che hanno sempre investito in macchinari ad alta tecnologia e nella professionalità dei propri dipendenti. Vini, proprio nel 2018 avete festeggiato 30 anni di attività, ci racconti come è nata questa esperienza? Beh, sì, parliamo di 30 anni fa, eravamo tre lavoratori di un'azienda dell'interno qua della Romagna, poi è venuta l'idea a uno di noi tre, a Fraternali, di rilevare questa attività che già operava da una quindicina d'anni più o meno. Sempre in questa sede? Non era in questa sede, era un'altra sede qui vicino. C'erano sei dipendenti quella volta e nel giro di poco siamo riusciti a raddoppiare il fatturato, quindi le cose hanno girato sempre abbastanza bene, a parte il periodo del 2008, ma è quello purtroppo... La crisi che ha colpito un po' tutti quanti? Ha colpito un pochettino tutti. Niente, ci siamo messi a testa bassa e abbiamo fortunatamente, penso, perché poi alla fine non si sa mai quant'è la fortuna e quant'è la bravura, fatto delle scelte commerciali, scelte aziendali, locazione e tutto, abbiamo affrontato sempre le valie problematiche, fin quando siamo arrivati praticamente a 30 anni e oggi possiamo festeggiare ed essere tranquilli. Quanti dipendenti conta oggi l'azienda? Oggi siamo in 15, oggi siamo in 15. Quindi più che raddoppiati rispetto... Sì, abbiamo raddoppiato e diciamo che abbiamo fatto una bella squadra perché sono tutti quasi sui 20 anni che lavorano con noi, quindi ce li siamo portati dietro per un bel po' di tempo. Riuscite a lavorare anche con l'estero oppure rimanete a livello nazionale? Noi, per le nostre specifiche, non è troppo proiettata per lavorare per l'estero. Noi lavoriamo comunque con tutti i clienti che lavorano quasi esclusivamente per l'estero. Ah bene, ecco, quindi riuscite in qualche modo a raggiungere anche... Sì, sì, in seconda battuta raggiungiamo l'estero, cioè va quasi tutto all'estero poi. Ecco, per quanto riguarda il fatturato invece siete soddisfatti oppure c'è ancora questa crisi che si fa sentire? No, diciamo che siamo soddisfatti, negli ultimi anni l'abbiamo incrementato parecchio. quest'anno più o meno ci fermiamo sul fatturato dell'anno scorso, ma già l'anno scorso era abbastanza buono come fatturato. Diciamo che a livello di fatturato per le persone che siamo, siamo contenti. Potremmo fare molto di più se avessimo più personale. Beh, certo. In conclusione, oggi si tiene proprio qua la conferenza stampa della CNA. Da che cosa è partita la scelta di associarsi proprio a queste associazioni di categoria? Beh, io la CNA devo tanto, cioè a livello di tanti amici che ci sono dentro, del Presidente, il Segretario e anche gli altri collaboratori. Ci siamo associati e siamo contenti di averlo fatto. Per noi diciamo che è un punto di riferimento importante, che su certe cose tante volte ci ci illumina, diciamo. Vi supporta, insomma, nel vostro percorso. Ci supporta, sì, sì. Poi fortunatamente è sempre, tutte le cose sono sempre fatte dalle persone, quindi quando le persone sono in gamba, poi alla fine si arriva sempre a una conclusione positiva, diciamo. Quindi noi ci siamo chiamati e quando la CNA chiama la BMG risponde. quindi noi siamo qua disponibili, siamo contenti di ospitarli. Secondo me è una bella cosa perché si fanno vedere anche loro tra i lavoratori e per me è importante. La vicinanza. La vicinanza ai lavoratori secondo me è fondamentale. Tutte le volte che voi volete venire qua da noi siete sempre tutti bene accetti. E grazie. 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 Grazie.